Per minati gli eventi estivi si guarda già al Natale, anche quest'anno l'intenzione è quella di abellire Piazza 20 Settembre con un abete. Gli anni scorsi veniva donato dalle famiglie del territorio. Continuerete su questa linea? Sì, il Comune di Fano continuerà su questa linea. Infatti sto facendo un appello a tutti i proprietari di un abete rosso, un abete normagnana, presente nel proprio giardino, che fanno parte del Comune di Fano ma anche dei Comuni di Dimitrofi. Questa pianta che vi sto chiedendo di donare al Comune, a titolo totalmente gratuito, non è una pianta protetta. Anzi, deve essere una pianta che volete abbattere, una pianta che è pericolosa per le persone, per le cose, per i manufatti. Naturalmente ricordo che il lavoro è tutto gratuito e che potete mandare un messaggio solo su WhatsApp, al numero che vedete sotto in pressione e con una bellissima foto della pianta.